Ciao a tutti, buongiorno, è mattina e ho deciso di realizzare il video Cosa mangio in un giorno? Ho visto che su Youtube è un video molto di moda, va molto di moda come video e poi mi è anche stato richiesto e quindi ho deciso di farlo, quindi appunto è mattina e io faccio appunto colazione, ovviamente vado sempre di fretta quindi ho scelto una colazione semplice, quindi bevo del succo di frutta, noi lo facciamo anche in casa però è finito ieri quindi questa mattina bevo quello comprato, poi mangio un po' di ciambella al limone che ha fatto mia madre, se volete fatemelo sapere che provvederò a fare la ricetta, ovviamente una ricetta realizzata con i bimbi, ora faccio colazione e ci vediamo dopo. Per quanto riguarda il primo, oggi mangeremo la pasta con il tonno, comunque anche se stavo registrando il video non ho fatto una ricetta particolare perché mi sembra che lo scopo di questo video sia proprio mostrare una ricetta semplice della cucina di tutti i giorni e allora quindi io ho scelto questa ricetta semplice, veramente veloce, proprio adatta alla cucina di ogni giorno quando si lavora, si rientra di fretta, vi faccio vedere la pasta con il tonno come piace a chiara, allora ho messo in una pentola un filo d'olio e ora vado a mettere gli altri ingredienti tutto a crudo, quindi ho messo il tonno, un pomodoro fresco nel quale ho aggiunto un pizzichino di sale, poi ho aggiunto qualche oliva, io ho utilizzato quelle nere ma vanno bene anche quelle verdi, le potete aggiungere in base ai vostri gusti e una carota a cubettini a datini, ora mi sposto sul fornello, faccio rosolare circa 5 minuti e il condimento per il primo è pronto. Eccomi qui appena tornata da scuola, io a pranzo mangio un classico piatto di pasta, bevo un po' di acqua e infine mangio un frutto, io ora mangio questa buona pasta che ha preparato mamma e noi ci vediamo dopo con la merenda e la cena. Eccomi qui per la merenda, mentre finisco di fare storia, mangio questo yogurt, vi ho lasciato la carta, eccola qua, questa è della Müller Mix, irresistibile yogurt al pistacchio più mandorle croccanti e ora faccio merenda. Molto buono! Ecco qui la mia cena, come vi ho detto questa sera mangio straccetti di vitello con i funghi, bevo l'acqua e poi mangio questo bel panino che ha preparato mia madre con le olive, questo panino è buonissimo, ovviamente l'ha preparato con i bimbi, però se vi fa piacere fatecelo sapere che faremo la video ricetta. Ecco qui la mia giornata mangiereccia è finita, la termino con una tisana, un tè, un biscotto che ha preparato mia mamma per papà senza le uova e intanto rispondo ai vostri commenti, li lasciate sempre sotto ai video. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemi sapere tutto giù nei commenti, io bevo il mio tè, ciao a tutti e alla prossima!